Io penso di ringraziare prima di tutto il Presidente Tagliani, che oggi purtroppo non ha potuto venire per problemi di salute, ma ci teneva moltissimo a questa giornata e a quest'anno, fatto di tutto, e dobbiamo ringraziarlo per aver scelto Venezia. Abbiamo scelto Venezia per inaugurare l'anno del turismo della Cina e dell'Europa perché Venezia è all'interno della Via della Seta che il governo cinese ha messo nei suoi programmi, nei rapporti non solo tra le persone, ma anche con i commerci, con le merci, con la logistica. Queste due vie terrestre e navale sono le tracce della collaborazione dei prossimi vent'anni tra l'Europa e la Cina. Noi siamo onorati di avervi qui, lo dico agli ospiti cinesi e agli ospiti europei. Siamo grati alla Unione Europea e alla Commissione Europea per aver scelto di inaugurare questo anno del turismo a Venezia. Pensiamo che il grande amore e il grande affetto che Venezia ha sempre avuto per la Cina e che la Cina ha avuto per Venezia possa dimostrare che in un luogo come questo, in una città come questa, si possano costruire delle relazioni tra le persone e tra le imprese. Il futuro dei rapporti tra la Cina e l'Europa passa prima di tutto attraverso i rapporti di rispetto e di conoscenza e di amore fra le persone. Questo è quello che insegna la storia di Venezia e la grande storia della Cina. Noi a Venezia abbiamo delle grandi istituzioni culturali, grandi musei, un grande teatro come la Fenice, abbiamo altre grandi strutture che abbiamo ereditato dal passato e abbiamo delle grandi università. Il turismo del futuro non sarà più soltanto viaggiare per vedere, ma sarà viaggiare per vivere, viaggiare per provare, viaggiare per fare esperienza. Ai molti giovani europei, ai molti giovani cinesi, diciamo che a Venezia, come in tante città di Europa e della Cina, si possono costruire delle relazioni di pace e di rispetto. Voglio ringraziare l'Università di Venezia, Ca' Foscari, per il grande impegno che ha dimostrato nel formare ragazzi che imparano il cinese e che aiutano le nostre imprese e i nostri operatori ad accogliere i visitatori cinesi e ad accompagnare le nostre imprese italiane in Cina. Speriamo che anche molti ragazzi cinesi vogliono venire a imparare l'italiano qui perché la reciprocità è proprio questo. Le relazioni del turismo saranno esperenziali. C'è un turismo di vita, ma c'è anche un turismo di business, c'è un turismo di sanità, c'è può essere il turismo sportivo, un turismo che sia legato alla cultura, ai rapporti tra le persone. Noi pensiamo che a Venezia stiamo sperimentando un nuovo tipo di turismo, che è un turismo esperenziale. Noi vogliamo far provare a vivere la città ai nostri ospiti. provare a vogare, provare a soffiare il vetro, provare a fare un percorso universitario in una università internazionale. Forse gli investimenti, anche se qui parliamo con grandi operatori del turismo, probabilmente dobbiamo immaginare un utilizzo del turismo che possa arrivare a comprendere anche l'importanza della conoscenza tra le persone, per cui lo sviluppo degli investimenti proprio anche negli altri settori, nei trasporti, nella logistica, nell'industria, nel commercio, nell'agricoltura, nella pesca. La conoscenza tra le persone e voi gestite le persone, voi siete grandi operatori internazionali, europei e cinesi, gestite le persone. Avete un grande ruolo sociale che va al di là del vostro business specifico. Avete l'occasione, l'opportunità, ma anche la responsabilità di gestire milioni di persone che si vogliono muovere, vogliono conoscere il mondo e lo vogliono fare in sicurezza. A Venezia questo si può fare, lo vogliamo dimostrare e abbiamo voglia e disponibilità per collaborare con chiunque di voi. Noi siamo a disposizione in tutto l'anno, questo anno che abbiamo iniziato oggi, i nostri uffici, gli uffici della città di Venezia, del comune di Venezia, saranno a vostra disposizione sempre per continuare delle relazioni di apertura, apertura non solo per le grandi città d'arte, ma anche per tutti i piccoli centri che possiamo ancora conoscere, italiani, europei e cinesi. Siamo molto interessati, assieme alla Comunità Europea e al nostro Governo italiano, a essere un punto di riferimento per lo sviluppo di queste relazioni. Ancora, grazie per la vostra partecipazione, grazie per essere a Venezia, siamo a vostra disposizione sempre per continuare relazioni di pace e di rispetto. Grazie.